Per la morte del ragazzino alla Galleria Umberto ci vuol dire qual è la tua posizione? Sì, io da settimane, anche da mesi, ho dovuto leggere sui giornali che avvocati, oppositori politici hanno presentato un esposto nominativo nei miei confronti, pur sapendo perfettamente che sono completamente strane dal punto di vista penale in questa vicenda, anzi che noi siamo parte civile in quel processo, è bene chiarire perché così funziona la procedura penale che quando una persona denuncia espressamente un'altra persona è verosimile, anzi obbligatorio che questa persona venga iscritta nel registro di indagata. Allora come ogni cittadino ho fatto istanza ai sensi del 335 del codice di procedura penale per vedere se era vero quello che leggevo sui giornali e ahimè era vero, nel senso che effettivamente è stato presentato questo esposto nominativo contro il sindaco di Napoli, ho scoperto di essere stato quindi scritto doverosamente da parte della magistratura nel registro di indagati, siccome sono un uomo delle istituzioni e siccome sono completamente estraneo a questa vicenda mi sono recato dai magistrati e ho esposto con molta chiarezza le ragioni per le quali il sindaco di Napoli è parte civile in questo procedimento e non è indagato. Sono assolutamente tranquillo, mi affido al lavoro serio e autonomo della magistratura vorrei solamente aggiungere che nella mia esperienza di magistrato e di sindaco un tal livello di inqualificabilità non mi era mai capitato di assistere, cioè che oppositori politici travestiti da avvocati utilizzano addirittura una tragedia umana così devastante come la morte di un ragazzo per fare campagna politica e colpire un avversario politico. Mi fermo qua perché poi per il resto sta tutto nelle mani della magistratura e alla fine, come dire, da questo punto di vista non mancheremo di fare anche le nostre azioni a tutela della nostra onorabilità.